Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zipnews Sport. Ben ritrovati dalla redazione sportiva in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con il calcio, il Tribunale di Madrid ci ripensa. Possibili sanzioni per la Superlega, ora Juventus, Barcellona e Real Madrid rischiano una multa fino a 100 milioni di euro e l'esclusione dalle Coppe Europee per due anni. Cristiano Ronaldo ringrazia Enfield, non lo dimenticherò dopo l'omaggio al settimo minuto della sfida tra Liverpool e United per la scomparsa del figlio, il campione portoghese ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento per i tifosi dei Reds. Formula 1 ufficiale, il rinnovo di Sainz con la Ferrari, insieme fino al 2024 la nuova intesa era nell'area e ora è diventata certezza, a prolungamento biennale del contratto, e il rapporto tra il pilota spagnolo e la scuderia di Maranello durerà almeno fino al 2024. Leclerc verso il GP di Imola, inizio oltre le aspettative, qui sarà speciale il pilota della Ferrari, leader del mondiale verso la prossima gara, l'approccio sarà lo stesso, ma qui è chiaro che sarà un weekend molto speciale. Moto Quartararo sogna il bis nel Gran Premio del Portogallo, Bagnaia, Bastianini e Marques insidiano il campione del mondo. Chiudiamo con il pugilato di Europei Youth, l'azzurra marra oro nei 63 kg donne, la liceale pesarese che gioca anche a calcio batte la tedesca Tutal. È tutto, grazie per averci ascoltato in regia, Rosario Perez. Zip News.it, le notizie nel modo più veloce. Zip News Sport